mi senti bene? che visione celestiale io non ti sento pronto? ci sono eh parla parlo ok è colpa del mio pc lo sapevo come va cazzo filo è da un sacco che non ci sentiamo bene bene dai sono sono contento sono come al solito mega occupato col lavoro sempre sempre peggio in realtà nel senso sempre peggio non che va peggio lavoro sempre peggio barra meglio come impegni e sni perché allora al lato vabbè come tutti gli anni io non so se così anche per te ho una flessione notevole in questo periodo dell'anno cioè da agosto a novembre sono i periodi dove lavoro di meno ed è sempre stato così dal 2017 ad oggi quindi sono quattro anni che è sempre uguale ho un andamento del fatturato dove dicembre gennaio sono molto alti poi dopo febbraio marzo aprile e maggio vanno gradualmente scendendo giugno luglio salgono di nuovo molto poi agosto settembre ottobre scendono novembre dicembre salgono di nuovo quindi a questo andamento adesso stiamo vendendo un po di meno ma al centro sta prendendo abbastanza piede c'è sempre più gente che viene sempre più iscritti quindi sono molto impegnato perché comunque una è una cosa totalmente nuova per me il centro non era aperto al pubblico prima lo utilizzavamo solo per fare i video allenarci noi testare l'attrezzatura fare i personal ma non fare tra virgolette stile palestra con la gente che viene sempre ad allenarsi ho visto che adesso si è unito anche nick alla combricola nicolas rubini e beh era lì a bologna gli ho detto nick vieni allenati beh vi invidio tantissimo invidio tantissimo ha portato tanti giocattoli nuovi interessanti ma quindi si allena anche lui non è un mito questa cosa si allena anche lui raramente raramente si allena anche lui esatto io guardo un po' alla cazzo perché ho la fotocamera lì o te qua tranquillo nessun problema sono abituato con cose di tutti i tipi per quanto riguarda invece fatturate cose varie sì anche per me la stessa identica cosa poi questo periodo sicuramente ancora peggio l'anno scorso peggio dell'anno prima quest'anno peggio dell'anno scorso quindi speriamo che in qualche modo ci si riprenda perché ti dico io in senso di fatturato complessivo in realtà fortunatamente sono sempre andato in crescita sono andato discretamente bene ecco nel primo semestre il problema è che un po' i problemi derivanti dall'anno scorso un po' il fatto che la buona parte la maggior parte del mio lavoro nel primo semestre di quest'anno nel mio guadagno è stato derivante dall'attrezzatura nella quale una marginalità avevo soprattutto in passato una marginalità pressoché nulla non è stato chissà quanto efficace cioè nel senso abbiamo fatto girare tantissimo denaro di cui in tasca non ce n'è entrato praticamente nulla però è un buon problema da avere diciamo nel senso è meglio avere il problema di far girare tanto denaro ma non avere margine e poi si lavora per aumentare la marginalità piuttosto che non aver lavoro affatto perché lì devi prima crearti il lavoro e solo successivamente andrai anche a crearti la marginalità noi il lavoro ce l'abbiamo e dobbiamo semplicemente lavorare sull'aspetto marginalità perché il margine unitario sul prodotto era pressoché nullo poi con l'incremento della materia prima cosa è successo? io inizialmente non volevo alzare il prezzo dei prodotti perché temevo di andare al di sopra di quello che era la spesa accettabile è un equilibrio delicatissimo esatto però arriva un punto dove la materia prima ha un costo triplo in questo momento cioè mantenere il prezzo precedente vorrebbe dire perdere dei soldi per ogni oggetto che vendo allora piuttosto smetto di vendere nel senso è sommato al fatto che la qualità del prodotto è assolutamente alla pari se non superiore prodotti che comunque costano molto di più e terzo non per importanza all'estero che abbiamo iniziato a vendere non tantissimo però comunque vendiamo all'estero cioè fa conto che due dei medagliati della nazionale francese si allenano con i nostri bilancieri per farti capire e anche uno con anche il RAC cioè consci del fatto che all'estero oltretutto siamo ancora più apprezzati che in Italia perché la differenza tra il mercato italiano e quello estero è che da quello che noto il cliente straniero guarda di più il dato tecnico quindi apre la scheda tecnica e dice ah ok il tuo bilanciere ha questi dati l'altro bilanciere ha questi altri cazzo è buono no rido perché mi viene in mente quello che faccio io con i bilancieri per vedere la qualità però si dice il feedback è totalmente diverso cioè quando ha a che fare con una persona non è sempre così perché comunque io nell'ultimo anno ho venduto circa 400 bilancieri in Italia quindi considerando che un prodotto di super nicchia è costoso non è una roba cioè ne sono contento però diciamo che quei pochi che criticano quelli che criticano in Italia come osservazione fanno ah ma il bilanciere X costa meno senza guardare le caratteristiche tecniche cioè esistono bilancieri da 200 euro perché il tuo ne costa 500 invece il francese l'austriaco e lo svizzero per ora io ho venduto in queste sto vendendo in queste tre nazioni oltre all'Italia mi fa il discorso cavolo il tuo ha le stesse caratteristiche tecniche di quello che ne costa 1200 è anche un pochino meglio come caratteristiche tecniche grazie che me lo fai pagare solo 500 uno può anche banalmente andare sul mio sito internet andare nelle recensioni della Power Bar Pro e c'è un ragazzo francese che ha scritto una recensione che ha acquistato come cambia con una prospettiva diversa con una conoscenza leggermente diversa si vede anche dalle palestre perché una palestra di là francese che mi ha comprato l'attrezzatura aveva tutta attrezzatura adesso vabbè non so quanto sia corretto da parte di una persona che ha un'azienda fra i nomi di un'altra però non sto parlando male quindi lo faccio lo stesso aveva tutta quanta attrezzatura rogue ed eleico quindi nel senso quindi il paragone era bello a livelli alti no a parte il paragone con la mia e sono onorato del fatto che abbiano deciso adesso di acquistare la mia attrezzatura e di diventare i miei clienti perché sono stati contenti di rimanere con me ma tralasciando quello anche il fatto che ti rendi conto quante palestre hai mai visto tu in Italia che hanno tutto solo attrezzatura rogue ed eleico io mai neanche una quindi ti fa capire che comunque lo standard qualitativo che settano gli appassionati del settore in altri paesi è molto più alto qua io ho fatto un giro per le palestre di Bologna una giornata perché dovevo andare dal commercialista in centro a Bologna banalmente ho detto vabbè mi prendo la giornata vado in giro a conoscere le palestre vado dentro faccio due chiacchiere vedo che attrezzatura hanno è critico di nascosto no ma a parte che c'erano almeno 5-6 centri senza attrezzatura che basavano tutto il loro allenamento solo su macchine no 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 neanche su fantomatici elettrostimolatori che dovrebbero farti aumentare la massa muscolare perdere il grasso con te c'erano questi computer dove tu ti aggrappavi con le mani con le maniglie che uscivano dal monitor e ti attaccavano queste specie di giubbotti antiproiettili con sotto tutti quanti gli elettrostimolatori e la gente stava 20 minuti così tipo a modo di crisi epilettica e loro ti vendevano che fosse un'alternativa superiore all'allenamento con i pesi che sono rimasto scioccato allora ci sono delle ricerche in merito a questi attrezzi faccio un piccolo punto per ridere un po' ci sono delle ricerche il fatto è che noi parlavo anche con Nicolas stesso un po' di tempo fa che per avere degli effettivi benefici da questi macchinari dovresti avere una soglia di sopportazione del dolore fuori dal comune incredibile perché veramente per generare una tensione al muscolo tale da farlo contrarre in maniera simile alla tensione che genereresti attraverso un carico devi avere uno stimolo da proprio elettrico incredibilmente elevato che sì sicuramente ti genera dei benefici però a quale costo cioè piangi per fare per paragonare gli effetti di una ripetizione di ed è fuori di testa io ho letto qualcosa sull'elettrostimolazione ma mi pareva che comunque anche applicando una contrazione meccanica attraverso lo stimolo elettrico tale per cui strappi proprio il muscolo dall'osso comunque non si genera uno stimolo allenante paragonato a una programmazione fatta bene con pesi questo però l'ho lessi se non ricordo male addirittura in un libro di Poliquin però non mi prendete per certo perché è una roba che ho letto che se non ricordo male andavo alle superiori io ho 31 anni adesso quindi potrei facilmente sbagliare ecco però mi pareva di aver letto una roba del genere in passato poi è un argomento che sinceramente sì mai approfondito non mi interessa però sì l'attrezzatura media nelle palestre italiane è incredibile ci sono alcune piccole eccellenze che emergono fortunatamente sempre di più che decidono poi di investire e di migliorarsi per esempio sempre in centro a Bologna un mio cliente è caro amico che il cliente sia come consulenza che come attrezzatura ha aperto un centro e l'attrezzato totalmente con roba nostra è qualcosa della lacertosus quindi comunque roba di alta qualità ed è apprezzatissimo è pienissimo e continua a comprarmi della roba in più anche perché poi dopo la gente anche se non è competente la capisce dopo un po' c'è andato in due o tre palestre è andato in una palestra dove aveva il bilanciere scivoloso dove aveva il rack che non gli permetteva di fare niente se non solo lo squat dove comunque anche la qualità del design era più bassa io ho una delle più grandi soddisfazioni che ho è che ogni volta che entra uno nel mio centro e vede la nostra attrezzatura rimane sbigottito dice cazzo ok e anche solo vabbè abbiamo messo il rack più grande che abbiamo da me ovviamente perché devo far vedere quello più figo chi ce l'ha più lungo esatto e vabbè nel mondo del commercio è giustissimo è il cuore del mio centro io faccio allenare quasi tutti c'è la maggior parte di chi viene lì dentro quindi deve essere grande anche per ospitare più persone però è l'impatto visivo per me fondamentale quando lavori soprattutto con attrezzatura di super nicchia di alta qualità e di alto prezzo cioè deve essere bella cioè se no la gente non la compra cioè se la Ferrari avesse le stesse caratteristiche tecniche ma non fosse spettacolare esteticamente la gente non la comprerebbe quindi ci vuole sempre il connubio tra le due cose io non sono bravo nel valutare il bello dal brutto non sono io che scelgo il design della mia attrattatura soggettivo vabbè sì poi ci sono gli esperti però ne riconosco l'importanza io scelgo qual è la direzione della progettazione che deve avere cioè nel senso non lo so il mio rack è l'unico al mondo dove tu puoi regolare in larghezza gli add-on tutti gli add-on praticamente e l'idea mi è venuta in mente perché sono andato a vedere una gara di streetlifting ho detto questi ragazzi fanno le dip e non possono regolare la larghezza delle dip cioè quello di 50 kg fa le dip con i gomiti così perché è larghissimo è larghissima la dip rispetto a lui quello di 100 kg le deve fare così perché le dip sono strettissime rispetto a lui e noi nel powerlifting l'altezza la possiamo regolare se uno deve prendere con le mani più larghe nel bilanciere possiamo regolare l'inclinazione dip strette e dip larghe vuol dire adesso grazie a questo macchinario nuovo sì sul mio rack puoi regolare la larghezza ce ne sono due tipologie di dip in realtà la seconda la dobbiamo ancora mostrare che sono proprio le parallele da ginnastica artistica che corrono per tutto il rack e quelle si possono regolare con ancora più precisione ma lì io ho guardato e ho detto ok servono due cose stabilità e regolabilità mancano non sono all'altezza e versatilità dell'oggetto quando hanno fatto la gara avevano tre oggetti diversi per fare quattro alzate è inverosimile cioè l'area la superficie di cui avevano bisogno per fare una gara era enorme quando con un rack fatto decentemente tu puoi fare tutto meglio di quello che facevano le tre strutture separate quindi mi sembrava assurdo è così che nasce capito poi il design il design lo fanno gli altri ragazzi che sono molto più bravi di me io ho l'idea cioè io penso che una cosa possa essere utile e dico ragazzi facciamo questa facciamo la bella allora questa è l'idea voi fate la bella esatto voi fate la bella e fate la qualitativa perché sempre dobbiamo essere quelli che hanno le caratteristiche tecniche migliori è il mio no allora la qualità è fuori dal comune io sono felicissimo di essere sponsorizzato di essere associato al brand al Nerd Training Gear e lo dico tranquillamente prima ero uno di quelli che cazzo è un pezzo di ferro cosa me ne frega ci carico cose devo sollevarlo devo spostare da A a B cosa me ne frega se c'è la fibra di carbonio che cazzo ne so i mani colto rosa però nel momento in cui ti approcci a un equipment un attrezzo di qualità lo noti subito anche se sei la persona più ignorante del mondo lo noti subito proprio come stavi dicendo tu la palestra canonica che fa l'aggiornamento i clienti ignoranti lo notano subito fuori di testa la qualità uno dei miei piccoli sogni nel cassette è quello proprio di riempirmi lo studio di prodotti Nerd Training Gear perché sì è una figata sia per allenarmi io stesso sia per allenare perché ti apre anche un mondo sembra di no ma ti apre un mondo di possibilità anche per allenare e per allenarsi e poi come dicevi tu cosa da non sottovalutare un rack che ti dà la possibilità di fare tante cose è un rack che ti permette sì sicuramente costerà di più magari rispetto agli altri però è un rack che ti permette di risparmiare sul acquistare altre cose il che vuol dire è stata l'idea anche ottimizzare lo spazio cazzo in un paio di metri quadrati metti cioè noi ho messo la foto qualche tempo fa sulla pagina di Instagram esatto un paio di metri quadrati erano sei ragazzi che si allenavano contemporaneamente senza disturbarsi minimamente col massimo della qualità quindi secondo me in un'ottica di ovviamente commerciale in questo contesto stiamo parlando ottica commerciale perché tu hai un centro che ti fa guadagnare dei soldi uno può dire io ho x metri quadri il mio fatturato dipende da quanta gente riesco a mettere dentro questi x metri quadri e dato che noi abbiamo la stessa identica realtà prima io avevo un centro di 40 metri quadrati adesso è 200 prima era 40 però io ho idea di cosa voglio dire avere solo una sala da 15 metri quadrati dove allenare la gente con un rack come quello che ho adesso avrei potuto prendere sei persone contemporaneamente nella mia condizione precedente con l'attrezzatura che avevo prima che avevo due rack separati poi avevo qualche attrezzo qualche manubrio ma se uno stava in un rack non si riusciva a fare altro perché c'era poco spazio si allenavano due persone contemporaneamente di più non ci si riusciva se non alternandosi e questa qua cioè nel senso queste sono tutte le scelte che facciamo derivano sempre dall'osservazione di problemi si vede proprio si vede proprio la pratica che c'è dietro che c'è stata dietro il voler affrontare determinati problemi perché si sono vissuti e poi la messa in pratica di queste soluzioni che sono venute in mente è figo per quello è proprio molto nerd come roba a me piace risolvere i problemi era il mio lavoro prima lo è tuttora purtroppo sembra che anche a chi lavora con noi piaccia lanciarmi addosso i problemi perché forse pensano che lo apprezzi però gli attiri gli attiri però poi li risolvi e il tutto va bene è la vita nel senso uno non si aspetta quando decide di fare il passo di mettersi nell'imprenditoria non si aspetta che sia così complesso cioè io non me l'aspettavo minimamente e mi rendo conto che tutte le persone che sono accanto a me allo stesso modo avevano un'idea molto diversa di quello che fosse lavorare in proprio essere imprenditori prima di vedere di toccare con mano quello che sto vivendo io negli ultimi anni ed è lo stesso anche per buona parte di chi ci segue che non ha un percorso simile non hanno la ben che minima idea di quanto sia complesso piuttosto che di cosa voglia dire banalmente il prezzo di un prodotto molte persone non sanno neanche la differenza tra il fatturato e l'utile banalmente quindi non lo so io vendo un bilanciere che costa 560 euro le persone pensano che io prenda 560 euro e me li mette in tasca e che il bilanciere cresca su un albero che io vado lì lo raccolgo a costo zero e glielo spedisco non sanno che dietro un bilanciere ci sono attualmente nove aziende diverse che ci lavorano ognuna di queste nove aziende a me fa una fattura ovviamente essendo se facessi tutto quanto io il costo sarebbe enormemente minore per me ma ognuno fa una lavorazione o ci procura un oggetto un prodotto un componente una materia prima ci mette il suo margine quindi quando arrivo ad avere io il prodotto in mano ho pagato nove margini di nove aziende diverse oltre a tutti quanti i costi di produzione costo della materia prima costo orario dei dipendenti eccetera quindi la gente ha un'idea lontanissima da quella che è la realtà del costo e pensa che mi capita praticamente tutti quanti giorni di gente che dice ah voglio comprare un bilanciere mi fai lo sconto nel senso no no perché banalmente non è cioè non è cattiveria esatto cioè nel senso no pensavo fosse questo no no non è da mandare a cap perché mi rendo conto che purtroppo il marketing di gran parte delle aziende non nel mio settore in realtà perché se tu chiami la ROG e gli dici ti prendo un bilanciere mi fai lo sconto il tizio ti ride in faccia ti mette giù il telefono cioè nel senso l'eleico uguale anzi l'eleico ma chiunque fino a uno o due anni fa non aveva il listino sul sito non c'era e tu dovevi chiamare e loro ti facevano la quotazione personalizzata in base a quanto compravi parlavi con un ingegnere dell'eleico direttamente talmente elite in base a quello che è ordinato e quindi comprendo che le persone sai anche solamente le aziende di integratori con cui collaboriamo noi spingono sempre gli sconti codice sconto sconto la maggior parte del marketing da parte di tutti è fatto su sconto 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 la gente ormai lo dà per scontato però non si rendono conto che non è così semplice soprattutto per una start up soprattutto per un'azienda piccola con le marginalità basse se vai dal gelataio non ti sogneresti mai se prendi una coppetta da tre ore e cinquanta di dire mi fai lo sconto 50% esatto magari se prendi dieci vasche da due chili gli hai preso venti chili di gelato e dici ok vabbè ti ho preso venti chili magari vieni un pochino incontro perché sì il margine unitario sul prodotto magari è basso ma quando prendi tantissimi prodotti il margine complessivo è molto alto e uno dice vabbè ti vengo incontro così concludiamo l'ordine però sono tutte quante dinamiche che purtroppo le persone non sono educate a sapere cioè se non sanno neanche che c'è una differenza tra quello che ti faccio pagare il prodotto e quello che metto in tasca io perché io ci devo sottrarre l'iva ci devo sottrarre i costi di produzione e poi ci devo sottrarre a fine anno un 34 35 36 40 dipende da che assetto societario che fatturato hai di tasse cioè quindi in realtà quello che ti rimane in tasca e sono briciole soprattutto al mio livello quando ho tutto esternalizzato a me la vendita del prodotto attualmente serve di più solo a creare il brand a far sì che la gente sia contenta che più gente lo utilizzi lo apprezzi che più gente veda altri utilizzarlo e apprezzarlo quindi decidono anche loro di acquistare il brand cresce nel momento in cui il brand diventa grande consolidato ed ho un flusso di acquisti tale per cui me lo posso permettere allora e solo ad allora io posso pensare di internalizzare la produzione e quindi iniziare a guadagnarci qualcosa nel primo anno di produzione dell'attrezzatura noi siamo stati in perdita di decine di migliaia di euro con la gente che pensa già all'epoca diciamo 375 euro un bilanciere sì però a me costava 5,50 cioè io ci rimettevo 200 euro di tasca mia ogni volta che qualcuno comprava un bilanciere per far partire il progetto ora non è più così però la gente non ha neanche lontanamente idea di queste dinamiche secondo me le persone dovrebbero essere educate a comprenderle anche per apprezzare di più il lavoro degli altri per sapere come porsi nel mondo del lavoro in generale e comprendere qual è il loro ruolo e il loro valore perché anche a livello di contrattazione aziendale quando tu devi contrattare con il tuo datore di lavoro devi avere un minimo idea di quale sia per lui il costo di assumerti e di sostenerti e quale sia il tuo valore perché allo stesso tempo tu potresti sottovalutare enormemente il tuo valore e accettare un contratto che non è neanche lontanamente adeguato a quello che tu stai producendo però devi conoscere queste dinamiche qua se non ne hai un'idea di come girino le aziende magari uno dice ah sì io voglio prendere 2000 euro al mese e poi per l'azienda gliene produci 1000 solo che non ti può mandar via perché è un casino assurdo mandar via dei dipendenti e tu vai anche a fare il presuntuoso con il datore di lavoro quando in realtà meriti molto di meno al contrario tutti guadagnano 2000 anche io li guadagno non dico un cazzo e magari tu produci sei volte un altro e il datore di lavoro potrebbe tranquillamente darti 1000 euro netti in più al mese però se non conosci quale sono le dinamiche dietro cioè come funziona l'economia come funziona un'azienda come funziona il denaro tu non hai potere perché non sai di cosa stai parlando è una cosa solo che come lo spiega la gente ogni tanto prova a dirgli non a un cliente lo dico di sfogo con le persone con le persone che sono a me vicine dico cazzo però se io vengo da te che sei un dipendente che è uguale vengo da te che sei un dipendente dico ascolta io sono il tuo datore di lavoro ti do 1500 euro al mese tutti i mesi da degli anni me lo puoi fare un po' di sconto hai visto quanti soldi ti ho già dato cazzo cioè ormai siamo anche in amicizia ma fammelo un 1200 no cioè te li do anche il mese prossimo fammelo 1200 euro anziché è uguale cioè è letteralmente uguale però la gente non se ne rende conto non si rende conto che questo è il mio lavoro e dal margine che ho io devo tirare fuori lo stipendio dei miei dipendenti il mio l'affitto della struttura eccetera quindi sì è sempre questo tir e molla bilanciamento stranissimo però alla fine fa cioè nel senso va bene così per tutti fa parte dell'equazione io ti stuzzico sempre quando abbiamo l'occasione di farci queste chiacchierate ti stuzzico sempre andiamo sempre su questo argomento perché comunque ritengo che sia particolarmente utile particolarmente sì utile parlarne e far trasparire determinate cose sto vivendo più o meno la stessa cosa sto vivendo non in prima persona ma conosco la situazione anche tramite l'altro mio sponsor che tramite Giulio Ramazio con i marchi di abbigliamento anche loro sono bene o male nella stessa situazione margini infinitamente bassi e ora non sto dicendo niente pubblicamente che loro non abbiano detto naturalmente quindi sì è una situazione che è comunissima all'imprenditore che fa partire qualcosa poi naturalmente il tutto dipende anche dal prodotto che si lancia se è un prodotto digitale hai vinto se è un prodotto fisico ed è sempre più fisico proprio si arriva a parlare di pesi di bilanciere di cose del genere il tutto si amplifica immagino anche in maniera più interessante sicuramente eh lì il problema è che nel prodotto digitale considerando che io come lavoro faccio il programmatore nel senso realizzavo proprio programmi per macchine automatiche robot quindi un'idea ne ho ovviamente non ho fatto comunque lavoro anche nel digitale ecco nel senso parte dei servizi che offro sono digitali la cosa del digitale è che è un prodotto unico che tu produci qualora ci sia un problema un bug tu vai a risolvere il bug e a tappeto hai risolto il problema su tutte le unità che hai prodotto è molto più semplice più semplice da gestire poi vabbè c'è una parte di sviluppo iniziale dopodiché è praticamente una rendita perpetua come un libro sì una rendita passiva esatto esattamente come un libro e quindi ci sta anche nel contesto del libro io ho fatto uscire il libro alcuni ragazzi mi hanno fatto mi hanno fatto notare alcuni refusi di grammatica cose del genere che c'eravamo persi durante la correzione se tu lo fai l'upload successivo su Amazon dato che Amazon stampa al momento dell'acquisto tutti i successivi dopo non hanno più il problema quindi si gestisce facilmente nel contesto di un prodotto fisico non è così intanto le fluttuazioni del costo della materia prima soprattutto in questo momento storico sono aberranti perché per quanto riguarda il bilanciere l'impatto è minore perché il peso del prodotto è minore e la materia prima non è quello che effettivamente fa la differenza di prezzo esatto perché tra un bilanciere scadente e un bilanciere fantastico cambia la lega d'acciaio però tra la migliore lega d'acciaio che esista per questo contesto specifico è la peggiore la differenza di prezzo non è enorme nel senso che la migliore magari costa il triplo ma è il triplo di un costo talmente tanto basso che a livello di incidenza ti farà una differenza di 30 euro sul bilanciere 40 tra l'acciaio peggiore e l'acciaio migliore ok ci aggiungi l'incremento ok sono 60 80 euro in più tra passare dall'acciaio peggiore che c'è è l'acciaio migliore al mondo c'è il mondo per quell'obiettivo specifico lì però tutte le lavorazioni che ci sono sopra sono quello che veramente fa la differenza il problema più grande è per gli oggetti grossi tipo il rack il rack allora lì si che la materia prima entra in gioco perché è un rack tutto completo con tutti gli add-on magari pesa 6-700 chili allora capisci che se un acciaio da costruzione come l'S355 canonico che è il migliore che si utilizza nel contesto dei rack tubolari noi abbiamo tubolari S355 spessore 3 mm 80x80 cioè un quadrato di 80 mm molto molto imponente molto pesante quindi lì se passi da non lo so adesso non voglio dire i costi faccio faccio dei costi che non sono veri ok perché non mi piace dire anche i costi che mi fanno non sono veri premetto è molto di meno facciamo finta che sia 10 euro al chilo è enormemente di meno premetto facciamo finta che sia 10 euro al chilo però se ti passa da 10 euro al chilo a 20 euro al chilo ti raddoppia ok su un prodotto non so questo però non funziona non so questi ordini di grazie se ti aumenta di un euro il costo al chilo del prodotto tu dici solo un euro sì però su 600 chili di prodotto sono 600 euro in più ci sono miliva sono 880 euro così spannometricamente a mente in più di costo per realizzare il prodotto c'è l'aumento della materia prima ti mette ci ha messo in ginocchio sfugge di mano in maniera facilissima a tutti nell'industria di tutte le industrie guardate le schede video guardate qualsiasi cosa messo in ginocchio tutti e in più ci sono i problemi della produzione cioè solo ieri che è stata una giornata tostissima noi dovevamo tirare fuori nuovi lotti di 4 prodotti e praticamente tutti i fornitori o quasi che mi dovevano produrre parti di questi 4 prodotti ognuno di loro ha fatto qualche piccolo errore che va gestito qualcosa di quello che hanno fatto è da buttare e da rifare ovviamente c'è controllo di qualità per quello però sono tutti quanti i soldi persi vai lì ti faccio un errore un esempio banalissimo mi dovevano consegnare i cuscini per la safety la scritta nel training gear è stata fatta specchiata quindi si legge da destra verso sinistra e alla rovescio i cuscini sono da buttare e da rifare sono costi in più tempi sono criticità che tu non hai quando fai un prodotto digitale soprattutto se te lo fai internamente se te lo fa un esterno che oltre a farti quel pellame lì con quel logo lì fa anche il pellame con il logo dell'azienda che fa le borse di marca piuttosto che quello che si vuole fare la maglietta personalizzata per lui tu sei uno ok? quindi ti dà la stessa attenzione che dà agli altri poi sta a te andare lì a dire ascolta cazzo me lo rifai perché hai fatto un errore però quando hai una sequenza di aziende che lavorano dietro l'altra il prodotto finito te lo dà solo l'ultima allora tu lui prende il prodotto è finito l'ho consegnato a quello dopo ok è finito poi dopo magari tu sei in mezzo intervieni in mezzo di solito non lo so il pellame dato che lo che lo gestisce lo stesso che ci fa i cuscini che ci fa gli schienali delle panche eccetera lo acquista lui lo manda lui a far la stampa io pago solo quello della stampa non è una persona con cui ho a che fare allora quando lui mi consegna il cuscino ieri sono andato a vedere il cazzo cioè io immagino come me lo stai dicendo sto ridendo perché poi posso soltanto immaginare l'incazzo che è salito eh no è solo a un certo punto non ti incazzi neanche più cioè sul momento ci rimani male però ti rendi conto che incazzarsi ogni tanto capita tipo il meme del tipo che si alza dal tavolo e si buttava la finestra senza dire niente esatto esatto nel senso ad un certo punto dici ok il mio ruolo nell'azienda purtroppo è quello di prendermi le badilate in faccia perché io sono quello che la rappresenta e sono l'amministratore purtroppo sono anche il bersaglio di qualsiasi tipo di critica da parte del cliente per ritardi o qualsiasi altra cosa perché non sanno neanche che esistono queste altre aziende che lavorano per me e quindi tu sei nel fuoco incrociato tra fornitori e clienti e devi gestire tutto o ti va bene oppure cambi lavoro a un certo punto cioè quello che è stata la mia realizzazione è questa o me lo faccio andare bene e cerco di gestire le cose al meglio possibile e in maniera più celere possibile o altrimenti devo cambiare lavoro però cioè veramente la legge di Murphy funziona al 100% per quanto tu ti possa impegnare per quanto tu possa spendere se qualcosa può andare storto andrà sempre storto la differenza tra un progetto una realtà che funziona e di qualità e un'altra è solo come gestiscono i problemi non se li hanno o meno ed è così nella vita di tutti i giorni tu non hai problemi ed è così anche per il coaching no? vabbè certo è così anche per preparare degli atleti di livello mondiale certo ed è qui che volevo andare perché tu produci degli attrezzatura fichissima attrezzatura fichissima che va in giro per ormai l'Europa attrezzatura fichissima che fa allenare anche atleti di livello particolarmente elevato atleti di livello particolarmente elevato di cui fa parte anche un certo Matteo il muletto Matteo muletto Matteo il muletto molto molto fio che salutiamo che grazie alla sua particolare prestazione la sua particolare dedizione all'allenamento della forza e alle indicazioni del Nerd Training Center è stato portato ai mondiali volevo parlare anche un po' di questo perché secondo me è una cosa fichissima da portare anche sul podcast e sono particolarmente curioso di saper di sentirti parlare un po' dell'esperienza di come è stata la preparazione di sensazioni e cose del genere è passato un mesetto ormai il 28 ha gareggiato quindi oggi è il 29 quindi diciamo sensazioni a freddo un mese è stato tanta roba è stato veramente bello intanto già solo l'idea di essere lì e anche il vedere così tanti atleti che magari tu segui da Instagram su Instagram da anni ok e averli lì a due centimetri che gareggiano nella stessa gara gareggiarci contro ti sei messo urlare tipo ragazzino tipo così no 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 sono stato molto pacato e concentrato sul momento però sì perché anche perché avevo molta paura che di trasmettere le mie sensazioni a Matteo cioè lui in quel momento doveva essere concentrato anche nel momento in cui mi stavo cagando addosso dopo la seconda di squat perché l'aveva fallita nel momento io non potevo trasmettergli che ero teso capito sentiva la puzza ma non si vedeva il marrone esatto poi avevo piena fiducia nelle sue capacità e sapevo che lì che li poteva fare non mi aspettavo che sarebbero stati così difficili in seconda considerate una cosa per chi non non ha mai accompagnato un ragazzo in gara o comunque ne ha accompagnati pochi la comunicazione la fiducia tra coach e atleta è la cosa in assoluto più importante nel contesto di gara quando sei lì a me non piace fare il coach imperatore tu fai questo non me ne frega un cazzo delle tue sensazioni anche perché leggere un atleta non è sempre immediato io ho dei ragazzi ieri c'era un ragazzo due ragazzi in studio mentre ambi si chiamano Luca uno per esempio lo squat o lo fa così o non lo fa l'altro da come io vedo la prima ripetizione direi che è un RTE 10 e poi con quel carico ci fa 8 rep e come massimale riesce a farne 40 in più e non è che me lo sono inventato lo fa davanti a me ok quindi un ragazzo che ha un'esperienza di più di 10 anni nell'allenamento come Matteo di cui gli ultimi 5 sono dedicati puramente all'allenamento della forza lo sa quanto è in grado di tirare tu al massimo puoi cercare di spronarlo di fargli tirare quel pochino in più perché lo fomenti perché magari sai che corde toccare per farlo spingere un pochino di più sai che corde emotive stuzzicare per far sì che lui vada con un po' più di aggressività però il tuo corpo è in grado di esprimere quella determinata performance in quel determinato contesto le cose del tipo no io faccio il 110% di quello che sono in grado di fare per definizione il 110% di quello che tu sei in grado di fare non lo puoi fare perché sei in grado di fare il 100% quindi noi dobbiamo fare un lavoro per cui tu fai il 100 e non il 97 ok il 110 è roba da fantascienza se tu fai un numero è perché ce l'avevi cioè anche se tu ti aspettavi 2,20 di stacco alla tua prima gara e fai 2,40 tantissimo di più non è che hai fatto come Goku Kaioken e allora hai tirato di più è perché avevi 2,40 e sei riuscito ad esprimere è troppo poco romantico il powerlifting eh lo so però è così quindi è verissimo è importante Matte mi ha detto voglio chiamare 2,85 seconda faccio 6 convinto sì chiamiamo 2,85 seconda punto e la razionale c'era perché a parte che è un minuto per prendere la scelta quindi non è che puoi rimanere lì a stare a discuterne granché però se noi avessimo chiamato 2,80 2,70 sono saliti più lentamente del solito stiamo parlando di squat 2,70 kg di squat sono saliti un po' più lentamente di quanto mi sarei aspettato quindi sapevo di per certo che se gli avessi chiamato 2,80 la terza sarebbe stata difficile ok quindi ho accettato 2,85 perché ho detto 2,85 ci prendiamo il suo record personale ci prendiamo un record italiano ci prendiamo la medaglia ci accontentiamo mondiale di squat poi se sono troppo pesanti la terza non gliela chiamo così è più fresco per lo stacco è stata quella la razionale poi li ha falliti perché si è sbilanciato in avanti però nel video non si nota perché è frontale perché non stava usando un bilanciere nerd esatto è quella la chiave e dopo l'abbiamo l'abbiamo rifatti comunque sì l'idea è essere mondiali è spaziale insegna tantissimo per il percorso ha insegnato tanto cioè con Matte sono 4 anni che lavoriamo abbiamo avuto il piacere di fare PR in tutte le alzate ad ogni gara in cui abbiamo gareggiato insieme quindi anche una storia che non è così comune molti atleti hanno alti e bassi gara molto buona poi gara che vanno un po' peggio gara dove vanno benissimo in una o due alzate un po' peggio nell'altra mentre noi stiamo linearmente crescendo sempre su totale su tutte e tre le alzate fortunatamente sfortunatamente c'è un atleta in Italia che è imbattibile che Emilio Cotticumetti con cui gareggiamo da anni che continua ad averla meglio meritatissima al mondiale ha fatto una performance allucinante e secondo me ha lasciato tantissimi chili poteva far tranquillamente il record del mondo di stacco a mio parere tranquillamente non hanno voluto rischiare perché chiamare di più per poi fallire avrebbe voluto dire precludersi la medaglia d'argento nella specialità è il bronzo di totale se mi ricordo male l'argento non mi ricordo quanto ha fatto Emilio Sergento bronzo non mi ricordo però comunque era peso argento nel totale comunque si sarebbe precluso quel risultato lì e quindi non l'hanno fatta però è bello cioè è bello proprio il percorso di evoluzione con un atleta che lo prendi che il suo miglior risultato è stato quarto posto agli italiani la gara dopo fai primo posto al campionato west europeo la gara dopo ancora fai secondo posto agli italiani e da quel momento in poi Matte non è mai sceso dal podio in nessuna gara dove nella peggiore performance che abbiamo mai fatto insieme abbiamo fatto un secondo posto adesso ai mondiali togliendo i mondiali ai mondiali abbiamo fatto un sesto settimo posto dove se avesse chiuso la terza di stacco che in realtà era chiusa ma gli si è aperta la mano ci stiamo lavorando da anni ormai prima gli si apriva con 2,50 ora gli si apre con 2,80 progress avrebbe fatto il quinto posto come atleta più leggero e più anziano della categoria se avesse chiuso l'ultima di panca che gli mancava così c'era così col braccio letteralmente mancava un centimetro avrebbe fatto avrebbe fatto l'oro nella panca battendo anche Rasselory quindi abbiamo combattuto bene io sono stato estremamente cioè vederlo prendere la medaglia io mi sono dovuto morder le guance per non piangere nel senso adesso io cerco di essere sempre molto razionale ma è stata un'emozione pazzesca poi eravamo entrambi più tesi del solito Matte ha mangiato pochissimo i giorni prima siamo arrivati in Svezia che lui pesava quasi 84 kg e il giorno della gara pesava 82 spaccati 82,02 una roba del genere quanto è alto? 1,65 Matte ok minchia 1,65 quindi ci ha perso un botto di peso in poco tempo era difficile reperire del cibo buono adeguato diciamo c'era una tutta roba molto particolare quindi alla fine Matte l'unica cosa che aveva trovato che gli piacesse era sto yogurt proteico al cioccolato è andato tre giorni avanti a mangiare solo quello solo quello dalla mattina alla sera quindi sì l'alimentazione pregara poteva essere gestita decisamente però non ci aspettavamo che sarebbe stato così difficile anche solo trovare l'acqua naturale perché lì non la bevono cioè tu vai nel centro commerciale che è gigantesco ci sono 200 tipi di acqua diversa ma sono tutti acqua alla fragola acqua ai mirtilli acqua al limone tutte frizzanti zuccherate anche o dolci fidi canti non lo so non lo so c'era scritto sapore sopra e trovare l'acqua naturale è stata una sfida e quindi diciamo che sì è la prima esperienza reale internazionale che abbiamo insieme Matteo ha fatto una gara in Norvegia l'anno prima di iniziare ad essere seguito da me però l'Uest Europa l'avevano fatta e l'avevano organizzata a Milano quindi è la prima trasferta internazionale che facciamo insieme per una gara quindi ci dovevamo un pochino adattare comunque abbiamo fatto PR in tutte le alzate comunque abbiamo fatto due record italiani comunque abbiamo portato a casa due medaglie al mondiale cioè nel senso la gara è andata benissimo sono estremamente orgoglioso di Matte sono però allo stesso tempo convinto che possiamo fare assolutamente di meglio ecco nel senso cioè non ci dobbiamo accontentare abbiamo fatto un bel risultato avremmo potuto fare ancora qualcosina in più raccogliamo dati e rifacciamo meglio per il futuro in questo in questo caso rispetto al passato nella settimana prima della gara l'ho fatto tirare un po' di meno di solito io arrivo sotto le gare che vado veramente tanto pesante rispetto alla maggior parte degli altri coach cioè l'adattamento specifico nel picco è imparare ad utilizzare carichi pesanti quindi ti faccio fare carichi pesanti durante l'anno faccio fare del volume del muscolo tanto muscolo perché per me è la cosa più importante ma in picco si parla di fare carichi pesanti sempre questa volta per il timore dato che il carico assoluto utilizzato da Matt è diventato molto più alto c'è comunque qui che volevo arrivare parliamo di un atleta che pesa 80 kg che fa 285 290 di squat cioè vedere un 300 di squat devi andarne alla 105 ok e comunque ce ne sono due che lo fanno in quella categoria quindi nel senso stiamo parlando di carichi che in senso assoluto in Italia si parla sempre carichi che in senso assoluto sono assurdi la mia preoccupazione era che tirare tanto quanto i programmi precedenti prima della gara uno se avesse un rischio infortuni molto maggiore che non ne valeva la pena il margine di errore è sottilissimo a 33 anni Matt cioè Matt è un drago è la persona che ci tiene di più allo sport al suo sport che io abbia mai conosciuto nella mia vita cioè è disposto a rinunciare a qualsiasi cosa per accelerare il suo sport si impegna a dismisura da tantissimi anni però a 33 anni c'è un infortunio grave ora vuol dire fine carriera probabilmente ok non ce lo possiamo permettere e in più anche lì nel senso la performance è importante perché comunque ci sono dei ragazzini guarda Mazzucchelli Mazzucchelli non mi ricordo mai se ce l'ha io o no Edo mi perdonerai Edo che ha vinto la Junior meno 83 ha fatto 2,5 kg di total in più di noi da Junior e continua a progredire ad un livello allucinante quindi nel senso le nuove leve arriveranno su con i forconi in mano le fiaccole il coltello tra i denti non è facile rimanere a quei livelli lì quando sei over 30 quindi noi dobbiamo cercare di ottimizzare tutto quanto qualcosina è meglio si può fare io ho avuto un po' paura di spingerlo tanto quanto prima e ti dico in realtà non penso neanche che sia tanto quello il problema perché la settimana prima della gara la forma c'era in gara comunque abbiamo fatto PR quindi forma c'era secondo me la settimana prima avremmo potuto tirare qualcosina in più di scuote di panta però nello stacco abbiamo voluto provare a chiudere i due 80 li abbiamo fatti due volte e quello probabilmente l'ha stancato un po' quindi sono tutti quanti i dati cioè vedete il metodo nostro di lavoro è molto tra virgolette semplice io creo i programmi con un foglio excel dove ho sotto mano tutti i dati osservo prendo appunti e dico ok questo ha funzionato questo non ha funzionato parlo col cliente in questo caso con Matte che dire cliente è un'offesa è un mio carissimo amico parlo con l'atleta viene meglio ok ci mettiamo a tavolini diciamo cosa è andato bene cosa non è andato bene quali sono le tue sensazioni cosa hai sentito lavorare meglio cosa ti piacerebbe cambiare c'è anche da dire che anche favorire l'aspetto psicologico del divertirsi ad allenamento soprattutto quando si è lontano dalle gare è importante la gente si impegna di più un'aderenza maggiore quindi lista di dati e poi dopo facciamo semplicemente praticamente una trattativa ok questo lo possiamo fare questo io non sono d'accordo per questo questo motivo risistemiamo e rielaboriamo col tempo il programma diventa sempre più efficace e anche questo poi il motivo per cui praticamente da quando ho iniziato ogni ragazzo che ho portato in gara in ogni gara ha sempre fatto PR in tutte le alzate che è un record che di cui io vado penso di poter andare molto fiero sono molto contento non è così per tutti ed è molto questo concetto anche di comunicazione e collaborazione spesso anche i programmi li faccio insieme ragazzi quelli che hanno la voglia e il tempo ovviamente di mettersi di fermarsi un attimo e guardiamo insieme discutiamo e dico guarda ti faccio fare questo qua per questo motivo questo qua per quest'altro e poi c'è chi non ha cazzi che ti dice ascolta io ho fatto questo mandami il programma e io gli mando il programma la razionale mia ce l'ho lo stesso se la vuole gliela spiego altrimenti se non ha lo sbatto di leggersi le mie mail che sono praticamente un libro ogni volta si apre il programma e basta però il percorso è questo c'è fiducia e conoscenza dell'atleta sono le due cose che fiducia reciproca e conoscenza profonda dell'atleta sono le due chiavi fondamentali per cercare di arrivare a quei livelli lì poi ci vuole la predisposizione perché puoi fare il lavoro bene quanto ti pare il ragazzo può impegnarsi quanto gli pare ma se non è predisposto ai mondiali non ci arriva è brutto è poco romantico di nuovo esatto poco romantico non voglio infrangere i sogni di nessuno però di ragazzi che ci impegnano che si impegnano ce ne sono migliaia quelli che vanno ai mondiali sono decine e quelli che poi continuano sono cinque perché non si infortunano esatto quello è una chiave fondamentale nello sport del powerlifting dove la longevità la fa da padrone perché se anche solo se anche io parto 20 kg indietro di te su ogni alzata e sono in grado di metterne cinque l'anno magari tu ne metti sette l'anno ok però se tu dopo tre anni smetti e io vado avanti per dieci alla fine sono più forte io quindi la longevità cioè è uno sport molto 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 sul lungo termine se tu fai un buon lavoro ogni anno metti qualcosa in saccoccia ok è come dire ogni mese non investo in una maratola esatto ogni mese io lavoro e mi metto da parte cento euro sono tanti no però dopo dieci anni sono 12.000 euro ok quindi dopo dieci anni cominciano ad essere qualcosa ed è uguale nel powerlifting a prescindere da quanto tu sia forte da quanto tu sia predisposto l'obiettivo è mettersi in tasca qualcosa partirai da 60 kg perché sei molto poco portato parti da 60 kg di stacco che vuol dire che non sei molto portato mi spiace per chi li ha però vuol dire che la genetica non è dalla tua se parti con 60 di stacco se li fai fatti bene però comunque tu ti puoi mettere qualcosa da parte e dovresti metterti qualcosa da parte ad ogni programma è quella la parte romantica dai poi tra dieci anni magari esatto tra dieci anni magari quei 60 sono diventati 260 e il tizio da 60 a 260 in dieci anni è una roba che è fattibile nel senso uno portato in dieci anni arriva a 320 ok a 340 se uno è tipo cometti un alieno ok però comunque quando vai a fare 260 quanti di quelli che hanno iniziato palestra con te che erano molto più forti al giorno 1 hai lasciato indietro e di quanto li hai lasciati indietro quindi è tutta questione di di rimanere di andare avanti di non mollare ma come tutte le cose importanti della vita se le difficoltà dovessero scoraggiare da seguire i propri sogni io avrei continuato a fare l'ingegnere e tornerai a fare l'ingegnere domani guadagnavo di più molto di più ero molto meno stressato avevo praticamente zero responsabilità viaggiavo tutto pagato non faceva schifo la vita però non è il mio sogno sono disposto a subire giornate come ieri dove devo andare da 4 fornitori tutti e 4 mi danno delle bastonate in faccia però poi dopo quando consegno il prodotto la persona è felicissima e mi dice non ho mai visto un rack così bello non ho mai utilizzato un bilanciere così buono ne vale la pena oppure quando siamo stati premiati qualche giorno fa come non a start up più interessante di Bologna che non me lo sarei mai neanche cioè mai eh nel senso non ci ho sperato neanche per un istante quando me l'hanno proposto di partecipare io non volevo neanche mandare la candidatura ho detto faccio fitness faccio attrezzatura per la palestra ma invece a chi gliene frega sono rimasto scioccato cioè quando mi hanno chiamato che hanno detto sei nella top 10 ho detto ah bello come ho visto quel video ho fatto bravi cazzo bravi bravi l'ho condiviso ovunque dove potevo farlo ti ringrazio perché comunque sono soddisfazioni vedere anche da da esterno che non lo sono mi piace dire che non sono un esterno però anche un esterno che vede una cosa del genere riesce a capire che anche una nicchia così piccola riesce a farsi vedere in un ambiente più commerciale tra virgolette è sempre una bella cosa è stato sì è stato pazzesco perché poi dopo gli altri progetti c'è per farti capire quello dopo di noi era era praticamente un'azienda che si era messa insieme con l'UNESCO per divulgare il concetto di dieta mediterranea nel mondo ed era l'unico altro che magari tu dici parla di dieta però quello dopo ancora faceva bar cioè navi di lusso barche di lusso aerodinamiche stava cercando di portare i motori elettrici sulle navi cioè nel senso era roba che non c'entra niente e poi è enorme capito cioè roba da milioni di euro io sono partito nel 2017 prendendo un finanziamento da 20.000 euro a titolo personale cioè non ho finanziatore cioè gente diceva mi finanzia lo Stato uno diceva mi finanzia autostrade per l'Italia cioè colossi capito lavoro con cazzo questa mega azienda multinazionale da miliardi io dicevo io ho preso un finanziamento alla banca qua dietro sono andato con un business con così esatto così solo il naso fuori per respirare fa piacere essere in mezzo a voi mi sento un po' spaesato però però sì è stata una soddisfazione pazzesca e senti facciamo un altro passettino indietro perché qualcosa di tecnico voglio inserircelo in questo episodio dai 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 scusami scusami no scusami niente è stato piacevolissimo però da nerd che sono anch'io volevo parlare di nuovo tornare indietro e parlare un po' di picco e di come hai gestito come gestisci tipicamente questa fase e come l'hai gestita per per Matteo dato che come dicevamo i numeri su cui giocare erano molto più alti se vogliamo rispetto all'atleta canonico e quindi come dicevamo di nuovo il margine di errore è sempre più piccolo e quindi sicuramente la raccolta dati di cui parlato è tornata particolarmente utile in questo contesto allora brace yourself come si dice preparati siamo pronti ok il picco per me è una scienza molto interessante perché reputo che sia la parte della programmazione che più coach sbagliano e non sanno fare bene la cosa più frequente che noto sono atleti che postano carichi molto molto superiori a quelli che fanno in gara e poi in gara non performano ma anche magari in gara fanno una singola con meno di quanto avevano fatto una tripla nello stesso esercizio cosa che a noi non capita mai quindi ho la presunzione di dire di aver compreso abbastanza bene e non alla perfezione abbastanza bene come funziona il picco io baso cioè nel senso spendo la stragrande maggioranza del tempo durante l'anno a incrementare la massa muscolare e la forza generale il picco serve a realizzare le performance ma in realtà non genera grossi adattamenti anzi è verosimile speculare che per quanto riguarda perlomeno la pura ipertrofia si abbiano degli adattamenti netti negativi e dato che comunque il potenziale di espressione di forza di un atleta è determinato dalla quantità di massa muscolare che questo atleta possiede io voglio spendere quanto meno tempo possibile in un contesto nel quale la massa muscolare del mio atleta cala inoltre quando il livello dell'atleta comincia a diventare elevato ed interessante un picco ha una coda cioè la fatica acuta che vai a generare con un test massimale reale o una gara si ripercuote su diverse settimane successive nelle quali le performance sono peggiorate un po' perché dissipando la fatica si realizzi il fitness però poi dopo questo fitness va calando perché non c'è lo stimolo dietro il motore che lo tiene alto e in secondo luogo c'è una fatica acuta enorme e quindi la sommatoria di questi due fattori fa sì che la performance esprimibile nelle settimane successive sia molto bassa e quindi difficilmente sarà allenante puoi pensare che siano efficaci per mantenere gli adattamenti ma non per migliorare ulteriormente questa è una cosa che vivono spessissimo gli atleti dopo una gara performance sotto i piedi soprattutto se il picco è fatto bene quindi il minor tempo possibile passato in picco quanto tempo ha bisogno l'atleta per realizzare la sua performance questa è una domanda che ci dobbiamo porre e che l'analizziamo anche durante i blocchi precedenti quindi non lo so fai dei blocchi da io faccio un test ogni blocco che faccio a prescindere che questo sia picco accumulo intensificazione faccio un certo numero di settimane di carico e poi faccio un test nella settimana di scarico nella settimana di scarico circa il 50% del volume utilizzo circa il carico minimo utilizzato nel blocco precedente per ogni esercizio fatto salvo di una serie top set ad rp10 per gli esercizi su cui io programmo una quindi ad esempio faccio una progressione di 4 settimane più di load dove gradualmente mi approccio ad un 5RM e nella settimana di load io faccio il 5RM 5 ripetizioni con il massimo carico possibile quindi quello è il test l'acronimo quello è il test in base al risultato del test io riadatto quello che è il massimale teorico dell'atleta mi appunto per ogni atleta alcuni parametri che sono la sua massima performance sulle 8 5 3 e una ripetizione quindi scusami il test è nella fase in cui l'atleta ha accumulato più fatica si la settimana successiva di load ah è dopo il di load durante il di load quindi nella settimana di delone e quando è affaticato yes però è lo stesso contesto in cui tu ti troverai nella gara verosimilmente perché quando tu vai a fare una gara di powerlifting tu non dissipi tutta la fatica perché questo andrebbe a calare anche parte delle performance tu dissipi quella fatica che ti serve c'è tutta la fatica che puoi dissipare senza calare le performance quindi non fai io per esempio perlomeno io non faccio delle settimane di scarico io faccio una settimana di scarico e in quella settimana c'è la gara ok quindi sono i non lo so 5-6 giorni precedenti alla gara dove il volume e l'intensità sono molto bassi e tu vai a dissipare fatica per realizzarle in gara perché io stavo pensando a settimana di scarico per esempio lunedì faccio test di panca mercoledì faccio test di squat venerdì faccio test di stacco no tu fai la settimana di scarico poi la fine della settimana di scarico sabato domenica gli poni i test o venerdì sì e li fa tutti e si fa un powerlifter fa sempre squat anche stacco uno dietro l'altro perché in gara li farà così perché io non posso settarti il massimale delle alzate da fresco e aspettarmi che tu sia in grado di ripetere una performance del genere da faticato non funziona così quindi io ho un'idea no raccolgo dati durante il percorso e dico ok questo atleta oltretutto ho sviluppato dei data sheet che fornisco ai ragazzi dove loro mi tracciano l'andamento di dati come peso circonferenze corporee quanti macro si stanno mangiando e soprattutto i dati del recupero e dei DOMS quindi io posso vedere la fluttuazione e la difficoltà delle alzate posso vedere la fluttuazione di questi parametri nel tempo poi ci sono i feedback che mi dà l'atleta e ci sono le performance se io noto come per esempio il mio caso specifico che io ho sempre il picco di performance in settimana 4 e qualsiasi programma si prolunghi oltre la settimana 4 quelle successive fanno cagare io faccio 3 settimane di carico una di scarico e faccio il test nella settimana di picco delle mie performance perfettamente un picco più alto riadatto i massimali e torno su ogni atleta ce l'ha diverso e quindi tu dopo vai a valutare quali sono le esigenze specifiche dell'atleta in base all'esperienza insieme provi 4 provi 3 provi 6 provi e tipicamente stanno tutti tra le 3 e le 6 molto raro che si vada in qualcosa di diverso dipende anche dall'alimentazione che sta gestendo l'atleta o no io ho riscontrato questo sì sni nel senso che potrebbe essere che in ipercalorica riesca ad accumulare magari una settimanina in più però preferisco esprimerla come performance acute maggiori cioè se ne hai spingi di più e teniamo il blocco corto uguale ok quindi tipicamente io do dei range di carico massimi entro il quale gestirsi tu oggi devi fare delle serie da 5 le puoi fare con un carico a scelta che vada dai 200 ai 210 kg nello squat però ogni serie deve essere ad un RPE pari o inferiore a questo io di solito do l'RPE massimo il capo non devi andare oltre questo RPE in questa settimana ovviamente tutti i ragazzi cercano di stare sempre con l'RPE un po' lo sforano però se gli dici così non ti fanno un RPE 9 quando dovrebbe essere è un'idea diciamo alcuni sì però mediamente non ti fanno un RPE 9 quando dovrebbe essere un 7 magari ti fanno un 7 e mezzo 8 però almeno le prime le fanno bene perché sanno che non devono sforare e quindi preferisco dire ok hai benzina spingiamo oppure aumentiamo il volume non prolunghiamo di più io l'approccio così ecco non ti faccio fare una settimana in più ti faccio cercare di spremere di più in quelle settimane però è valido sono valide entrambi insomma c'è il modo in cui mi piace mi piace lavorare e raccolgo quindi questi dati di programmi in programma programmi di accumulo programmi di forza programmi di accumulo programmi specifici programmi specifici quando arrivo al picco ho un'idea più o meno di come funziona ora la differenza primaria tra un programma votato alla forza piuttosto che uno votato all'ipertrofia in realtà sta più nella progressione e nella selezione degli esercizi a volte piuttosto che nella struttura in sé del programma ti faccio un esempio se io faccio un programma dove faccio low bar appena sotto il parallelo dove faccio panca massima presa consentita con quanto più arco possibile dove faccio lo stacco sumo ok lo stimolo ipertrofico dato che è proporzionale anche il range di movimento dei movimenti è un certo quantitativo se io lo stesso identico programma lo faccio facendo una safety ok culo a terra facendo una panca presa stretta magari senza esasperare l'arco e la faccio facendo uno stacco regular lo stimolo ipertrofico è nettamente diverso quindi io posso andare a variare lo stimolo ipertrofico generato dall'allenamento anche solo al variare degli esercizi un altro strumento che ho a disposizione è il variare la progressione perché ho introdotto il variare la progressione perché nel picco è questa la cosa che mi interessa maggiormente cioè che progressione faccio io faccio innanzitutto escludo la variazione degli esercizi perché il ruolo che ha il picco è rendermi estremamente capace nel performare nel mio sport specifico quindi io devo fare squat panca stacco devo diventare estremamente competente nel performare in squat panca stacco come li farò in gara quindi le varianti non le metto se non proprio se vedo che un ragazzo quando la rimuovo perde lo schema motorio allora in secondo piano con un volume minore solo per mantenere ingranato l'esecuzione corretta gliela posso lasciare ma nella maggior parte dei casi se posso non c'è proprio nel picco la variante e poi dobbiamo fare pratica specifica quindi vanno fatte le singole e devono essere pesanti perché noi ci dobbiamo adattare a fare singole pesanti e quando intendo pesanti intendo pesanti perché se l'adattamento specifico che voglio ottenere è essere in grado di fare una singola il più pesante possibile e durante tutto il picco la singola più pesante che faccio è un RPS7 io di lavoro specifico ho fatto così zero perché io devo fare una singola difficile una singola pesante poi quanto pesante si modula in funzione della tolleranza dell'atleta ok perché ad esempio Matteo se non fa almeno un 5% di carico in meno sullo stacco rispetto alla trazzate si fotte perché non ha le leve adatte all'ostacco lo stacco lo affatica enormemente di più in questo programma dato che lo stacco stava andando molto bene io ho tenuto la stessa percentuale degli altri tornando indietro non lo rifarei questa è una delle valutazioni che ho fatto ad esempio per poter migliorare il mio approccio alla programmazione ho provato una roba diversa in questo a tornare indietro la modifica non la farei di nuovo con tutto che la gara è andata bene ha fatto PR di stacco però sono convinto che se non avessimo tirato così pesante l'ultima settimana i 280 li avrebbe chiusi questa è la mia presunzione quindi dico mea culpa prossima volta andiamo un pochino più leggeri però l'ottica è quella cioè partire in settimana 1 magari se fai un picco di 3 settimane di carico più scarico settimana 1 fai delle singole rp7 settimana 2 fai delle singole rp8 settimana 3 fai delle singole rp9 ma rp9 per davvero questo vuol dire che non è un rp10 ma non è neanche un rp8 ok è 9 quando si per alcuni atleti tipo matte che non va d'accordo con l'rp perché sfora sempre e preferisce avere il carico prescritto noi siamo arrivati anche a tirare un 97,5% nella settimana prima della gara e fare pr in gara tu ti devi adattare a fare un carico quanto più vicino possibile al 100% non applico più quella stessa identica metodica perché è il il risk reward il rateo tra rischio e benefici posti benefici non mi veniva è un pochino sfavorevole però a me è capitato in passato di fare programmi anche su me stesso con non so 5,6,7 singole tra il 95 e il 97% la settimana prima della gara cazzo se tu fai 5 singole con la seconda con la prima chiamata di gara due settimane prima e 5 singole con la seconda chiamata di gara la settimana prima della gara tu sei certo che la prima e la seconda ce le hai in qualsiasi condizione senza neanche fare lo scarico con lo scarico puoi solo fare meglio ora sono diventato un pelo meno aggressivo rispetto al passato perché a quei carichi lì soprattutto se prendi un atleta che sa fare bene la tecnica ma non è forte quel lavoro lì anzi quel lavoro lì glielo puoi mantenere anche tutto l'anno perché quello che deve sviluppare è la capacità di esprimere forza Lorenzo il mio collaboratore le singole pesanti ai ragazzi che fanno bene la tecnica ma che non sono fortissimi gliele lascia tutto l'anno ad esempio e stanno ottenendo risultati straordinari io ho modulato dove ti faccio fare una o un paio di singole molto pesanti e un back off un pochino più tecnico dove praticamente tu fai un ramping faccio un esempio tu devi fare una singola rp9 la settimana prima della gara e poi dopo ti faccio fare un 3 4 5 singole di back off a un carico più basso magari rp7 mezzo 8 tutti quanti i carichi che durante il ramping rientrano all'interno di quelli che tu puoi utilizzare nel back off io te li decurto dalle serie che devi fare di back off dopo ok quindi è un modo un pochino più tollerabile se tu devi fare il ramping Matteo ha fatto il ramping a 270 la settimana prima della gara e aveva il back off tra i 250 e i 260 e ha fatto 250 260 270 io gli ho tolto due serie di back off e ha fatto solo le rimanenti per darti un ordine di grandezza per comprare più autoregolato anche esatto un dato concreto su quello che abbiamo fatto quindi si tratta di quello lavorare principalmente nei ramp range bassi quindi se per una per un tre allenamenti a settimana prima potevo fare un giorno di ipertrofia che vuol dire sopra le sei ripetizioni un giorno di forza generale che vuol dire sopra le tre ripetizioni e un giorno di forza specifica che vuol dire sopra dalla singola alla tripla alla quadrupla in una fase di picco io non vado mai sopra le cinque ripetizioni mai ok però circoscrivo questa tipologia di allenamento al solo picco se no siamo limitati in quanto a costruzione di massa muscolare durante l'anno e ti assicuro che quando entri nella sala riscaldamento dei mondiali ti rendi conto che la differenza primaria tra noi è chi vince e quanti muscoli ci sono addosso poi che li abbiano ottenuti tutti lecitamente o meno sono speculazioni che in alcuni contesti secondo me è anche giusto fare però non penso che siano tutti così ok e penso che comunque additare sempre ah ma lui si bomba non sia il metodo giusto per migliorare osservare è un'altra cosa tipo l'esecuzione canonica italiana dello stacco che a me non è mai piaciuta totalmente sulla punta dei piedi cercando di fare praticamente uno squat utilizzando solo l'estensione del ginocchio parole povere solo i quadricipiti e pochissimo la catena cedente e caposteriore si ripercuote nella fisicità media del powerlifter italiano in femorali estremamente carenti ok e nel contesto di gare mondiali tutti quanti quelli che hanno fatto dei carichi veramente rilevanti nello stacco avevano i femorali molto sviluppati e non avevano quella tipologia di impostazione tecnica gli italiani che hanno fatto delle performance molto elevate nello stacco che ho visto io dal vivo nella maggior parte dei casi avevano un'esecuzione che non rispecchia quella canonicamente divulgata in Italia del bilanciere sulla punta dei piedi allora queste cose vanno osservate perché tutti gli atleti più forti hanno una bella pancia sotto i femorali e noi che arriviamo indietro no coincidenze può essere però quando ti danno 30 kg di stacco pensaci magari non è solo una coincidenza magari è meglio che anche noi mettiamo un po' di carne lì magari è l'esecuzione delle alzate che facciamo quindi è per quello che dicevo che è una grande scuola noti che gli atleti non arrivano in gara grassi arrivano in gara enormi e tirati noti che non lo so la Wettner che è famosissima su Instagram è meno 76 fortissima ha vinto la sera prima della gara era 4 kg in più e non era non stava cioè nel senso impazzendo dalla paura perché doveva perdere quei chili lì noti che Riccardo Angelini e Cometti erano nella stessa condizione magari non 4 kg ma un paio di chili sopra ed erano tranquillissimi perché sono abituati a rientrare allora mentre Matt era in paranoia e ha voluto calare il peso precedentemente perché il taglio liquidi con lui è una strategia che non abbiamo mai applicato esatto capito noti tutte quante queste cose qua gli altri sono grossi ovunque e quindi vuol dire che fanno anche tanto lavoro accessori non è che tu hai un bicipite hai un braccio di 50 cm con un bicipite grosso così se non fai dei carri però quando tutti i forti in panca hanno un braccio grosso così tu ti fai delle domande probabilmente non fanno solo la panca ok poi per l'amor di Dio ripeto ci sono le speculazioni ma sono tutti dopati tutti cioè vuoi dire che solo gli italiani non si dopano e poi vuoi dire che tra gli italiani non ce ne sia neanche uno che si dopa che viene a legare e non è stato beccato io non credo ok cioè proprio lo dico apertamente non credo non è colpa della federazione non è colpa di nessuno un test antidoping costa tipo 2000 euro non lo puoi fare a tutti a meno che tu non faccia pagare 2000 euro a testa a partecipare alla gara agli atleti e allora dopo lo fai a tutti perché altrimenti non hai soldi per farlo banalmente no non è colpa di nessuno però io sono fermamente convinto che seppur probabilmente siamo una delle nazionali più pulite che ci siano qualche furbetto ci sia come da tutte le parti insomma dai non raccontiamo c'è gente che è disposta di fare qualsiasi cosa pur di aver successo pur di ottenere un risultato in tutti gli ambiti del mondo però no cazzo nello sport no tipo qualsiasi cosa tipo mettere un come si chiamano le magliette elastiche sotto la tuttina per andare a fare il punk tipo quello esatto esatto cioè tu pensi che se c'è chi è disposto di mettersi l'attrezzatura gear sotto il single facendo finta di essersi fatto male al posto per scappare via per non essere beccato per rubare dei chili in gara non ci sia allo stesso tempo chi è interessato a farsi una punturina che poi è anche più facile cioè ti beccano anche molto meno facilmente che metterti il corpetto te lo devo mettere addosso lo devi nascondere ti muovi strano io non cioè quindi nel senso io distoglierei l'attenzione da quello di dire ah grazie il cazzo Russell Rie è dopato ok magari sì con buona probabilità sì perché l'ho visto dal vivo e fisicità così nell'83 non ne avevo mai viste anche se mi aspettavo che fosse ancora più grosso eh premetto però sì poi comunque anche quello da tenere in considerazione dal vivo e no però lo erano tutti cioè nel senso no io credo di no io credo di no un po' come come hai detto tu che mi ritrovo particolarmente d'accordo in uno sport come bodybuilding powerlifting dove la genetica conta tantissimo il sicuramente sì non si vuole togliere mai niente alla costanza alla dedizione a tutto quello che si vuole però arrivati a un certo punto genetica e non sai mai quando uno fa uso o no diventa sempre più importante il cercare anche a livello psicologico proprio per l'atleta per essere per poi perseguire quell'unica arma che è la costanza e la dedizione e cercare di fare il riferimento il più possibile a se stessi guardando gli altri cercando di imparare non cercando di criticare cercando di magari di scolparsi dal fatto che ti hanno battuto perché sono dopati certo un po' come il mondo dei social un po' come il mondo in generale quindi cercare di migliorare se stessi e evitare di fare troppi paragoni con gli altri poi naturalmente quando sei in pedana e vuoi prendere il podio queste cose per forza ti girano per la testa però in linea generale migliora te stesso e batti il te stesso del passato per tornare indietro alla fase di picco particolarmente interessante allo stesso modo vedere come sì c'è tanta teoria quindi il classico alla fine dei conti togli il più possibile la fatica aumenta il più possibile il fitness però è interessante vedere come poi nel pratico ogni singolo coach va ad applicare questa semplicissima cosa in maniera totalmente diversa l'uno dall'altro la tua è una metodologia immagino simile a quella di RTS di tu uscire erro o sbaglio bene o male allora io con Mike ci ho parlato siamo andati anche a cena fuori insieme in Irlanda e per un periodo ho partecipato al project momentum non so precisamente come gestisca il picco perché l'unica fase in cui abbiamo collaborato era un project momentum comunque sono questi progetti dove lui segue delle persone per dei dei suoi studi indipendenti e non so se è sempre così però nel mondo oltreoceano molti fanno così ho visto alcuni programmi di Eric Helms e Mike Zurdos di picco addirittura loro vanno anche molto più pesante cioè Mike Zurdos ad esempio ho visto un suo programma di picco di quattro settimane dove aveva un uno et dieci ogni settimana sui tre esercizi per le quattro settimane che precedevano la gara dove in ogni settimana cercava di alzare quella che era la sua performance all'uno RM che è molto più aggressivo di quello che faccio io poi naturalmente dipende molto anche dall'atleta perché una cosa del genere non la puoi applicare a tutti io non mi sentirei di applicarla per quanto sei Zurdos per quanto sei professorone però lui è comunque il più esperto che c'è al mondo della programmazione di UP al momento quindi nel senso comunque quando io pubblicherò tanta ricerche scientifiche parlerò contro di lui io non mi sento comunque di farlo però non è che posso dire a torto non ho il coraggio di provarlo ecco diciamo così è difficile ci sono altri data data driven strength mi piacciono molto che sono questi due ragazzi che hanno una pagina Instagram che loro sono un po' più moderati di me sì c'è Tu Shearer che fa i ramping più back off pesanti sulle singole c'è c'è Joe Franz o Joy Flex che anche lui fa in realtà lui i ramping sulle singole le fa tutto l'anno in realtà il suo programma praticamente non cambia mai neanche in picco io sono stato allenato dai di strength guys e dai di strength athlete TSG e TSA entrambi hanno un ramping sulle singole che progressivamente diventano più pesanti dove uno ha ramping più back off che sono i di strength athlete e i di strength guys invece sono quelli che hanno l'approccio che avevo precedentemente che ovviamente avevo anche appreso e riadattato da loro dove praticamente c'era un determinato numero di ripetizioni loro non ti danno alcun modo per autoregolarti loro ti dicono fai un 7 per 1 al 97,5% e non è l'approccio che io utilizzo non è l'approccio che io ho apprezzato di più però è stata uno studio formazione per me per me rilevante quindi sì però l'ottica è sempre quella capito sono coniugazioni di quello che è un approccio unico ovvero io devo diventare più bravo a fare le singole pesanti punto perché quello è l'obiettivo del programma e se tu guardi ad esempio se leggi che so che tu l'hai letto Scientific Principle of Strength Training di Mike Isretel lui dice che il concetto più importante è la specificità no? quindi io devo allenarmi in modo che il mio allenamento rispecchi l'adattamento che io sto ricercando scusate se ho il cane che ha deciso di fare questa dietro però ha la coda alta quindi non ha paura per chi non lo sappia il mio cane è un cane adottato dai maltrattamenti e questa è una cosa rarissima di solito ha la coda tra le gambe perché ha paura e quindi sono contento e sappiamo il video dobbiamo fare più episodi esatto e quindi sì l'errore primario che si può commettere è non fare pratica sport specifica se il tuo obiettivo è diventare forte in una singola pesante te le singole le devi fare e devono essere pesanti una volta avevo fatto un programma per capire se era più intelligente usarle varianti o non usarle conscio del fatto che adesso ne uso molto più che precedentemente ma è sempre lo stesso ragionamento nel senso soppeso come quando e perché non sono uno che dice le varianti sono la cosa più importante penso che possono essere un contesto possono essere uno strumento interessante che in un contesto specifico può essere utile però allo stesso modo uno si può fare un grafico semplicemente ti fai un grafico e metti non lo so singola massimale e allenamento che sto facendo tu descrivi la singola massimale con cinque attributi i primi cinque che ti vengono in mente che secondo te la descrivono meglio poi guardi l'allenamento che stai facendo in questo momento e metti una croce in questi attributi ok se ne hai meno di tre probabilmente non stai facendo un buon lavoro ok nel senso quanto più sei vicino a quello quanto più il tuo allenamento è specifico a me piace molto utilizzare cose concrete per valutare il mio lavoro numeri dati eccetera grafichetto uno schemino banale una singola massimale che cos'è è massimale è il cento per cento benissimo ok al secondo posto cos'è è molto pesante è molto difficile quindi non so l'effort espresso lo sforzo espresso è elevatissimo è lenta ma è lenta non perché cioè noi stiamo cercando di imporre la massima accelerazione possibile ma sale lentamente è una ripetizione ok e poi che cazzo ci metti il carico rispetta le regole da gara bravo esatto perfetto bravissimo questa è perfetta non mi era venuta in mente sul momento ma è esattamente quello che serve ok perfetto grandissimo allora dici sto rispettando le regole da gara facciamo finta che sia la panca questa volta ok sto facendo un fermo da gara perché se non sto facendo un fermo da gara e poi in gara me lo fanno fare i carichi che ho fatto in palestra se li sogni non servono un cazzo ok sta salendo lei è abbastanza pesante perché il bilanciere salga lentamente come gara è abbastanza vicino all'1RM è una sola ripetizione la sento molto pesante quindi comincio a dire quante di queste affermazioni sono vere e quanto ci esatto e quanto ci sto andando vicino e di settimana in settimana avvicinandoci alla gara devono diventare sempre di più sempre più vere quindi se io inizio con un 90% per la singola poi faccio 92 95 scarico faccio un esempio ok allora gradualmente sono andato sempre più vicino a tutti quanti questi canoni in particolare se rispetto anche i canoni esecutivi di gara e quindi è sempre questo l'approccio che faccio se devo essere se deve essere l'ipertrofia lo stimolo io so che devo diventare più forte in un rep range che va all'incirca tra le 6 e le 12 ripetizioni ok e che il volume la fa da padrone soprattutto l'accumulo di volume qualitativo nel tempo l'esecuzione tecnica la fa da padrone perché se non faccio bene un esercizio lo stimolo che sto generando non va nel muscolo di mio interesse allora cosa farò farò esercizi eseguiti in modo che siano massimamente stimolanti farò varianti che sono più stimolanti per l'ipertrofia e farò in modo che la mia progressione mi porti a migliorare le performance in quel rep range quindi magari piuttosto che incrementare il carico prendo un carico che sono in grado di fare per 6 ripetizioni lo ripeto di settimana in settimana portandolo più vicino alle 8 o alle 10 e poi quando faccio uno scarico anziché fare un 5RM o un 6RM o un 8RM prendo questo stesso carico e lo faccio per tutte le ripetizioni che mi vengono se nella settimana 1 ne facevo 6 e nella settimana 4 ne faccio 12 sono diventato più forte a parità delle altre condizioni nella caratteristica specifica che mi serve sviluppare che in particolare la forza resistente per stimolare massimamente l'ipertrofia sono passato da un esercizio che è da un carico un esercizio un'esecuzione che stimolava principalmente la tensione meccanica a uno che ha una componente anche metabolica con lo stesso carico incrementando le performance è sempre questo il processo decisionale dietro le mie programmazioni come funzionano le cose ok come riadatto il programma in modo da generare esattamente questa tipologia di adattamento sapendo che funziona così in realtà è semplice se hai voglia di studiare e di capire come funzionano le cose e fare il collegamento ovviamente tra teoria e realtà è quella la cosa difficile secondo me perché studiare c'è studiare sapere i concetti primordiali sono bravi tutti poi secondo me c'è un grosso gap tra teoria e pratica che per forza di cose deve vedere un sacco di esperienza proprio sul campo per essere colmata sono d'accordo tranne sul fatto che lo studiare sia semplice perché la maggior parte delle persone non vogliono studiare esatto che dicevo proprio quello che cazzo serve ci sono anche quelli che dicono che ti mandano messaggi su Instagram ti dicono Mitch ho questo questo libro ho anche questo ho anche questo cosa mi consigli ma te li sei studiati quei libri o li hai letti perché c'è anche lì poi si apre un altro mondo in realtà i libri che ti danno le basi per poi iniziare il tuo percorso sono veramente pochi non ti serve comprare una libreria da 10.000 euro di programmi di allenamento non ti serve perché ti basta prendertene uno capirlo veramente molto molto bene uno di qualità capirlo veramente molto molto bene e poi il resto a mio modo di vedere le cose viene molto da semplicemente dal farlo da mettere in pratica le cose e capire che cosa funziona e che cosa meno in base al contesto mi hai fatto venire una cosa in mente che mi fa riderissimo invece a me fa ridere quando la gente dice ti seguo da 5 anni ho letto il tuo libro ho guardato tutti i tuoi video ho letto anche i libri di Eric Helms di Mike Isretel di questo di questo e quest'altro secondo te ho fatto questo programma dove il giorno 1 faccio 49 serie allenanti per i femorali facendo un giant set primo esercizio good morning secondo stacco RDL terzo stacco regola nel quarto capriole in aria è fatto bene funziona che cazzo hai letto cosa hai letto e poi hai mai davvero letto qualcosa che ho scritto io ho guardato qualche video mio perché se non sapresti che non sono un grande fan delle tecniche di intensità ed è una cosa che a me fa sempre è un sacco ridere perché ti seguo un botto no vecchio complimenti complimenti e questo probabilmente non ha mai mai realmente guardato è il libro che ha elencato l'ha solo comprato e non l'ha mai aperto ed è una cosa che fa ridere perché non riesco ad immaginare che una persona che ha letto il mio libro quello di Eric Helms quello di Mike Isretel ma anche il tuo decida cioè decida di provare cose così così strane diciamo ecco così così dissonanti rispetto a quello che sembra essere l'evidenza attuale esatto Filo io ti ringrazio tantissimo ti ho tenuto anche più di quello che ti avevo detto molto probabilmente però io scappo in azienda subito esatto immaginavo fa piacinissimo comunque scambiare due chiacchiere ti lascio andare molto alla tua giornata particolarmente impegnativa immagino saluto a tutti gli ascoltatori e ci vediamo sicuramente in un prossimo episodio ciao a tutti